pensiero al volante dopo averli provato so che l'ho provato in una partita ma li ho usati tanto come sapete gioco solo su di loro quando li provo quindi allora sto De Bruyne ti posso dire è un giocatore normalissimo da 1 a 10 gli do 6 6 e mezzo niente di più e la mezzala la può fare in un centrocampo a 2 già secondo me soffre tanto però in una 4 3 2 1 4 3 1 2 può fare tranquillamente la mezzala grazie a tutti